Lui è Principe, è un cane meticcio, ha circa 5-6 anni. Principe è un cane che è stato recuperato 5 anni fa, è stato lasciato direttamente qua davanti al rifugio. Non sappiamo da chi, onestamente, però da subito questo mega pelone, come lo chiamo io, si è adattato, si è adattato, tra virgolette, con gli altri cani. Principe ha un carattere molto docile, va d'accordo con cani di maschi, femmine, di taglia grande e piccola. Quindi grossi problemi di adozione, io credo non li debba avere. Noi ci aspettiamo per Principe una famiglia che sia disposta a dargli tanto amore, che abbia lo spazio sufficiente per sgambare, perché a lui piace sgambare parecchio, giocare con gli altri cani. Però ecco, chi adotta Principe sicuramente adotta tanto tanto amore, quello sì. Principe l'abbiamo trovato comunque in condizioni discrete, a parte la tristezza dell'abbandono, però patologie salutari non ne ha, gode di ottima salute e che dire, se vi siete innamorati di Principe contattateci, chiamateci subito e lui è pronto. Che meraviglia questo Principe! È davvero molto bello, come invece è poco bella e poco edificante la sua storia. Un altro abbandono davanti al canile, un altro abbandono di cucciolo davanti al canile. Ed è bene chiarire una cosa, non è che perché l'abbandono si configura davanti a un canile, che non ci siano più gli estremi di legge per perseguirlo. Abbandonare un cane davanti a un canile, certo, garantisce a quel poverino qualche possibilità in più rispetto al fatto di abbandonarlo in mezzo alla strada, ma comunque un abbandono, comunque un reato, punito dal codice penale con il carcere fino ad un anno. E comunque un'azione totalmente delinquenziale. E ora torniamo al nostro cagnone, al nostro Principe. Mamma, secondo te riusciremo a far diventare Principe il Principe di una casa? Ma sicuramente sì, Stella, è un cagnolone così bello, a te non piace? Sì, mi piace molto, mamma. Vabbè, ma a te li piacciono tutti i cani, non fai testo. Sono certa che però i nostri telespettatori hanno già carta e penna per scriversi il numero di telefono per portare a casa Principe. E allora vuoi dirlo tu, amore? Sì, mamma, 366-700-5937. Oppure...